La prima sera in basca record della manifestazione risale ormai dal 2007 di Matteo Fioraschi 1-0-2-96, Leonardo Vendaminetto in quarta corsia, accreditato nel miglior tempo di iscrizione, classe 0-1 un giovane con lotto in terza corsia, classe 2002, vincitore di due medaglie d'oro ai Criteria e di un argento e un bronzo ai campionati italiani di Roma 2016 Vendaminetto davanti 31-21 con menta e gorniere che insegono nella seconda e quinta corsia Vendaminetto, la virata numero 3, quella dei 75, il baglio delle medaglie riservate alla categoria ragazzi del Centorana, viting di Halloween 2016 con Gorniero che sorpassa dalla quinta corsia e si va a prendere questa vittoria, Marco Primo Gorniero, 1-0-5 e 49 per lui Vendaminetto nel secondo, 1-0-6 e 0-4 e poi per la terza piazza la spunta Marco Menta E' verona questa? Non